Salve a tutti, in questo video elenco i personaggi che secondo me sono molto richiesti nel gioco, anche alcuni veramente improbabili. Lo so, ma Walter White non è di proprietà della Warner Bros ma la gente vuole questo scienziato, chissà perché. Già onestamente è strana quest'altra cosa, ma Nicole per Multiversus è troppo assurda come cosa poiché lei è troppo potente per il gioco. Onestamente ha più senso mettere anche questi due personaggi di Regular Show nel gioco come duo poiché sono molto iconi. E un personaggio che tutti vogliono nel gioco assolutamente è proprio Ben Tennyson. Secondo me anche Gumball merita di apparire nel gioco invece che sua mamma ma voi cosa ne pensate? Fatemi sapere altri personaggi per il gioco e a presto.